ci sono persone che si coinvolgono iniziano innamorarsi proprio quando vengono risultati o quando vengono abbandonati questa cosa significa che sono innamorati dell'abbandono o del rifiuto la persona si fa vivere abbandono e rifiuto e tu ti innamori non è sicuramente di quella persona ma di quello che quella persona ti fa vivere ora uno dice ma perché capita questo ma siamo masochisti no è che la parte emotiva va alla ricerca di nutrimento di tensioni emozionali allora piuttosto che niente come dice il poverbo è meglio piuttosto piuttosto che morire di sete è meglio bere da una pozzanghera di acqua sporca però bisogna tenere presente che noi possiamo insegnare questa nostra parte a bere sì ma da una sorgente di acqua pulita per fare questo però serve uno stile di vita che dia emozioni c'è poco da fare perché se una persona è affamata sarà disposta a mangiare di tutto pure rifiuti pure spazzatura in questo caso abbandono e rifiuto sono sicuramente spazzatura emotiva ma sempre nutrimento sono per cui dobbiamo imparare a riuscire in qualche modo ad avere uno stile di vita diverso se ci rendiamo conto che una persona ci rifiuta questo ci coinvolge vuol dire che abbiamo uno stile di vita non adeguato da un punto di vista emotivo non riusciamo a vivere quelle quid di emozioni che tutti i giorni dovremmo in qualche modo vivere che non significa fare cose strane particolari ma semplicemente anche dedicarsi a cose che ci interessano veramente che ci appassionano perché come diceva abbatti altro diciamo ci vorrebbe un'altra vita nel senso che se non riusciamo a vivere emotivamente nel modo giusto dobbiamo cambiare qualcosa nella nostra vita non possiamo come dire tenere tutto uguale sperando di vivere situazioni diverse questa è semplicemente un'illusione per cui nel momento in cui ti rendi conto che ti coinvolgi proprio con persone che invece dovresti rifiutare da un punto di vista logico e ti coinvolgi proprio su delle emozioni spazzatura come rifiuti l'abbandono devi cambiare vita in qualche modo fare delle cose nuove diverse altrimenti continuerai a vivere sempre le stesse situazioni bene per questo video è tutto ti do appuntamento al prossimo seguimi anche sul blog seduzionavid.com ciao